Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità abbiamo scoperto nei file di gioco inserite nelle ultime ore di Fortnite! Novità ovviamente relative all'evento della season 9! Quello che tutti stiamo aspettando ma anche novità relative al nuovo pack Shadow Legend! Alla modalità Summer di Fortnite e a tante altre cose che non vedo l'ora di farvi vedere! Quindi come avete visto nel video di oggi insieme a tutte queste cose vi inserirò anche un pochettino di leaks molto molto interessanti! Dettagli davvero superlativi! Prima però volevo ringraziare tutti quelli che ogni giorno supportano utilizzando il codice CREATOR XIUDERONE! Grazie ragazzi! Grazie di cuore per supportare il canale! Mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto... di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima è la domandina raga e dai, ormai chi guarda i miei video lo sa, ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qua sotto! Ragazzi domanda di oggi davvero molto molto personale, semplice e secca! Ma qual è il tuo livello stagionale e il tuo livello del pass battaglia? Dai ragazzi oramai ci siamo eh! Settimana 7 se ne è già andata, manca le ultime 3 e poi... Arrivederci! Season 9 è stato un piacere! Io sono riuscito ad arrivare al 100 stagionale, mi manca ancora qualche livello per completare anche il pass battaglia! Non vedo l'ora di, come si dice, sbloccare l'ultima skin davvero molto molto interessante, ma anche la copertura, quella del livello 95-96, ora non lo ricordo, mi fa un sacco piacere avercela! Ditemi ragazzi, sotto qua, come siete messi voi, che voglio un po' fare un controllo! Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance! Andiamo subito subito ragazzi a parlare due secondi dello Shadow Legends Pack! Innanzitutto, lo sapete, è il nuovo bundle, il nuovo pack che si va ad affiancare al Frozen Legends e al Lava Legends! Il prezzo sarà sempre 19,99, sarà acquistabile probabilmente dalla prossima patch, quella di martedì, forse dall'aggiornamento di martedì, e soprattutto la particolarità di questo pack è l'inserimento della copertura, quindi per la prima volta un pack ha la copertura! Ma abbiamo tre immagini, le migliori che ho trovato raga, meglio di così non c'erano delle skin in-game! E questa ragazzi è il falco solare, come vedete in lobby, molto molto carina! Allora mi piace questo pack ragazzi, a me la roba tutta nera piace, quindi ci farò sicuramente un pensiero, poi come già vi avevo anticipato, c'è la copertura, quindi ho la collezione completa, la devo avere! Abbiamo, lei si chiama Skinny, se non ricordo male, carina, niente di eccezionale, e abbiamo Ombra Mantata, ora non ricordo il nome suo giusto ma mi sembra proprio di sì, che curiosità ha le ali bianche rispetto a quelle che sono invece nello stile originale, che sono invece di colore nero, quindi uno shadow pack davvero molto interessante che presto vedremo tutti! Ma torniamo ragazzi, devo dirvelo a parlare di Fortnite X Stranger Things, lo so ragazzi ne abbiamo già parlato ieri ma qua le cose vengono inserite giorno per giorno e ci sono due nuove skin che saranno disponibili molto probabilmente da shoppare ovviamente nel pass battaglia. Queste sono le stringhe di codice, quelle evidenziate in verde, inserite ieri e come vedete ragazzi, Demogorgon, vedete quello evidenziato in arancione? In arancione, in arancione è una skin che richiama proprio un personaggio presente nella saga ed è questo simpaticone qua ragazzi, questo è un Demogorgon, quindi aspettiamoci di vedere una skin molto simile a questa immagine e abbiamo anche un'altra skin, ragazzi sono criptate, le immagini vere delle skin non le vediamo, ancora non le sa nessuno, ma abbiamo la seconda skin relativa che si chiama Chief Hopper, Chief vuol dire in inglese capitano più o meno, il boss di tutto in poche parole e tra l'altro nella saga di Stranger Things questo signore si chiama Jim Hopper che è lo sceriffo della città, aspettiamoci ragazzi di avere anche una skin che ricalca questo secondo simpaticone insomma ragazzi, evento di Stranger Things davvero oramai prossimo, non quanto prossimo però per quanto riguarda invece il nostro evento ufficiale della season 9 il Cactus Event, queste ragazzi giganti sono 3, anzi 4, in realtà 5 righe di codice che sono state trovate e che come vedete si chiamano Cactus Promo per quelli che ricordano i miei video dei leaks, delle news, quando vediamo promo di fianco al nome dell'evento si tratta delle immagini che gireranno sulle televisioni ve le ricordate? ve le faccio vedere ragazzi, non sono in ordine, quindi non saprei darvi l'ordine ragazzi, apparirà sulle televisioni questa immagine e da quello che sto per farvi vedere sembra davvero confermato il blackout, dopodiché apparirà nuovamente questa immagine ragazzi che potrebbe essere una delle ultime quindi il nostro lama che già abbiamo visto nelle season precedenti, arriverà anche il meraviglioso pesce secco con i bastoncini di pesce in mano che è veramente un qualcosa di OP ma vedremo anche ragazzi il nostro chef che se non sbaglio fa parte di un negozio presente ai grandi magazzini proseguendo poi per questa immagine nettamente particolare, io ho associato questa trama alla possibilità di un blackout potrebbero essere ragazzi, hai presente quando la televisione non riceve il segnale no? che fa tipo, ecco quella roba lì, secondo me potrebbe essere quindi magari il mostro di nuovo taglierà i cavi completamente, già sono rovinati e quindi ci saranno problemi di elettricità arriverà anche questo banana stand molto easy, giallo, secondo me in realtà ci sarà sopra quest'altro disegno che non è altro appunto che è la nostra bananita stilizzata e fatta sotto forma di cartone animato ma parlando ancora invece dell'evento Cactus, vediamo il tweet di uno dei più grandi leakers mondiali che dice sono stati aggiunti appunto dei file all'evento Cactus guardando nel file Cactus promo, quindi il primo, il principale sembrerebbe che qualcosa venga proiettato proiettato, non si sa dove, un ologramma e noi sappiamo bene ragazzi, gli ologrammi stanno ad indicare esatto, i timer, quelli che ci sono ad esempio su sponde del saccheggio, quello che abbiamo visto l'ultima volta come vedete infatti questa immagine lascia proprio intendere che ci sia un ologramma proiettato dalla televisione e ragazzi guarda un po' nei file di gioco è presente sotto la cartella Cactus proprio questa immagine che non è altro che la base di un possibile timer perché è schiacciato così? è schiacciato così perché voi dovete immaginarlo rotondo e quindi non rimarrà così schiacciato ma verrà allargato per prendere una forma di circonferenza quindi ragazzi chiudendo il discorso Cactus queste sono tutte le nuove stringhe di codice inserite come vedete timer manager la seconda riga quindi si parla proprio del timer countdown master, master bin, countdown cuttes, hologram quindi vedete tutto quello che vi ho fatto vedere ragazzi è assolutamente confermato leggendo queste stringhe di codice che dire ragazzi oramai non c'è più tempo da perdere datevi da fare sicuramente per completare il pass battaglia e preparatevi perché tra pochissimo assisteremo all'evento della season numero 9 io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale vi ricordo che noi siamo in live fra poco ciao 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 ciao